Il Terramano Nicola Salini farà parte della struttura tecnica del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Salini, attuale capo di gabinetto del sindaco Gianguido d'Alberto, è stato anche commissario dell'Aterteramo, seguendo da vicino le drammatiche vicende degli sfollati delle case popolari. Una nomina importante per l'intero territorio terramano, che ha davvero bisogno di interventi urgenti. Un'opportunità per il territorio di Teramo, ma anche una grande responsabilità. Sì, una grandissima responsabilità, oltre che un'opportunità per l'intero territorio. Naturalmente, con questo nuovo ruolo che andrò a svolgere a supporto della struttura commissariale della ricostruzione post-sisma Centro Italia 2016, appunto porterò con me non solo la responsabilità tecnica e quindi nella produzione normativa, ma nello stesso momento anche una responsabilità morale nei confronti delle migliaia di inquilini che in questi anni, come ben sapete, da commissario dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Teramo, ho respirato i dolori, le preoccupazioni e soprattutto le incertezze in termini del loro rientro nelle varie case, purtroppo inagibili a seguito del terremoto. Non mi sono mai sottratto ad impegnarmi per queste casistiche. Il tema della ricostruzione ormai invade, lasciatemi passare il termine, la mia quotidianità da qualche anno e finalmente adesso avrò l'opportunità di supportare le scelte del commissario, vado a dire l'avvocato Giovanni Legnini, nominato soltanto un paio di mesi fa, ma che già ha dimostrato di essere molto attento a tali problematiche. Infatti non sfugge a nessuno che soltanto qualche giorno fa sono state approvate le ordinanze cosiddette semplificazioni che consentiranno, soprattutto per ciò che concerne la ricostruzione privata, un'accelerazione senza precedenti. La nomina di Nicola Salini nello staff del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini stigmatizza la presidente regionale del Partito Democratico, Manola Di Pasquale, non è solo il giusto riconoscimento al valore di un giovane preparato esponente della nostra vita pubblica, ma anche una notizia più che positiva per l'intero tessuto provinciale.